Certo, piangiamo come, come vedrete, le soliste usciano, quindi io ho una mia, a fedeli sicuro, a me la presento, Maria Rosa Tranello e Daniela Filippo. Il prossimo brano si intitola Soon and Very Soon. Cosa significa? Si dica presto, molto presto, incontreremo il Signore, perché? Perché ci porterà gioia, perché ci porterà speranza. E in questi tempi direi che abbiamo tanto, tanto bisogno, quindi Soon and Very Soon. Sunt and Very Soon. Sunt and Very Soon. Sunt and Very Soon. Alleluia, alleluia, Sunt and Very Soon. Sunt and Very Soon. Sunt and Very Soon. We are going to see the screen. Alleluia, alleluia, we are going to see the screen. No more time, no more time. Alleluia, Alleluia, Alleluia Alleluia, Alleluia Alleluia, Alleluia Alleluia, Alleluia 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.